Santa Maria delle Mole Santa Maria delle Mole, la voce interiore, attraverso Roberta S. a cura di VB, guide. Bentrovati nel vostro cerchio di luce. Siete certi che le vostre idee siano quelle che daranno delle risposte ai vostri perché e considerate le vostre idee il vostro pane quotidiano, quello in grado di alimentare i vostri percorsi mentali e di donarvi una maggiore luce, una maggiore consapevolezza. Accorgetevi che oltre il vostro pensiero c'è la vostra coscienza, c'è la vostra essenza. Potete riferirvi alla vostra anima o alla vostra coscienza interiore. Quello che vi indichiamo è un qualcosa che non è fatto di spazio o di tempo, ma di ciò che è, che vibra in voi, anche se voi non riuscite a vedere con i vostri occhi umani. Potete però riuscire a percepire la vostra essenza, la vostra vibrazione primordiale, quello che siete. Allora vi diciamo che i vostri pensieri sono fatti anch'essi della vostra essenza, ma non sono tutto, in voi c'è molto di più. Provate dunque a distaccarvi dal vostro credere e pensare e provate a concentrarvi su ciò che è la vostra capacità di percepire, di intuire e di comprendere, senza parole e senza ragionamenti. Quello che siete non è soltanto quello che pensate, e quello che pensate è solo in piccola parte proveniente dalla vostra realtà più profonda. La vostra vibrazione primordiale è sempre presente in voi. Non le ponete attenzione, o perlomeno, non le ponete la giusta attenzione. Questo non perché voi non abbiate la capacità di farlo, ma perché ve ne dimenticate, siete distratti. Allora vi diciamo, fate attenzione al vostro modo di essere attuale, fate attenzione a ciò che dite di essere e a quello che siete realmente. Accorgetevi che voi siete ciò che siete, ma siete anche l'opposto di ciò che siete ora, e che ogni pensiero che avete è in realtà la componente di un pensiero più grande che comprende nel suo interno lo stesso opposto. Allora potete ritrovarvi soltanto se accettate l'idea che nella vostra mente non può entrare tutto il ragionamento di voi stessi. Continua.